Allora, Carletto, quando è che hai preso del salamello? Allora, scusa un attimo, forse non avete avvisato di una cosa abbastanza importante. Attenzione ai topotri dentro la vicina che trocca all'adotto, noi non lo scompiamo. Allora, stavamo dicendo, le macchine partiranno tutti con la gomma posteriore su quel sasso che vedete dove è posizionata adesso la macchina di Ricky. Al 3, 2, 1, si parte, vieni, vieni di qua, si gira lì a sinistra, sì, sul percorso, poi ci sono tutte le frecce, comunque, vieni giù di qua a sinistra, vai Riccardo, ti stiamo guardando tutti, ok, si viene di qua, e tra in questa, si passa alla 1, qua c'è la porta numero 2, allora se le porte vi sembrano difficili, prendetevela con Fabrizio, è stato lui, poi si va su dal ponte, ecco qua, se avete paura che il modello possa venire giù, ok, bastate che chiedete al giudice, di star vicino alla macchina, ve la chiappa al volo lui, poi si rimetterà in posizione. Questo oggi è qua, in questi video, questi sono messi, ho già mosso prima Riccardo, e poi si è già messo, è in prima proposta. E Ricky ce l'ha fatta, ok, adesso vai giù di là, segui le freccette. a destra, ti rendono di brutto quei cerchi lì, in punta, mi raccomando, in punta, quindi già fatto, già fatto. Gira giù, un stretto laggiù. Lì, stiamo spettando di mettere il palettino. A destra.